Buonasera, sono Silvia, sono consulente in locazione per solo affitti e questa sera vi accompagno su una mansarda con tre camere da letto e due bagni. Abbiamo un termocamino, la mansarda è termoautonoma, ci troviamo nel soggiorno con angolo cottura, balcone ed entriamo in zona notte preceduto da una porta scorrevole, bagno di servizio e seconda porta per separare la zona notte, la prima camera da letto con velux e finestra, sulla sinistra secondo bagno con finestra e seconda camera da letto, finestra e porta finestra che ci porterà su un altro balcone e questa è la camera da letto matrimoniale, la più ampia con velux e porta finestra, ampia e luminosa vista. Per tutte le informazioni telefonate a solo affitti 0341353644, l'appartamento è in dotazione anche una cantina, posto auto e con queste trave a vista è veramente stupendo.